buongiorno oggi siamo sotto la pioggia a presentarvi questa nuova versione del renault captur turbodiesel 90 cavalli cilindrata molto bassa 1500 perciò economica anche come assicurazione questa vettura in pronta consegna qui da noi ma comunque sia contattateci sempre prima di venire a vederla e provarla ovviamente il motore un euro 6 la vettura nuova e all'allestimento sport edition sensori di parcheggio posteriore retrocamera per delle retrovarce eccellenti bicolore come potete notare a questo bellissimo grigio scuro con tetto nero cerchi in lega da 16 pollici ampio vanno bagagli con sedili posteriori sdoppiabili ruotino di scorta noterete anche voi tantissimo spazio per i passeggeri posteriori infatti in questa vettura in 5 si sta comodi e poi è lei la renault captur questa crossover molto più alta di una clio ma più bassa di una suv è il successo di questa vettura specchietti regolabili elettricamente e ripiegabili vetri elettrici anteriori e posteriori sedili di guida regolabili in altezza comandi del cruise control al volante comandi del viva voce bluetooth e della radio navigatore satellitare e tutto il sistema infotainment climatizzatore classica chiave a scheda di renault noi ve l'abbiamo presentata aspetta voi venire a vederla e provarla per innamorarvi di questa vettura anche perché di concorrenti ne ha veramente poche vi aspettiamo